Buone notizie per i lavoratori ex LSU operanti nei servizi in appalto di pulizia delle scuole, che dal 1 gennaio 2020 vedranno finalmente riconosciuto il loro diritto alla stabilità lavorativa e riconosciute le giuste garanzie che spettano a chi da decenni tiene in piedi le strutture scolastiche assieme al personale ATA. Solo in Abruzzo gli ex LSU sono circa 560, di cui oltre 300 solo nella provincia di Teramo. Finalmente nella legge di stabilità è stata inserita l'internalizzazione dei servizi oggi esternalizzati di pulizia delle scuole. Una vicenda che purtroppo riguarda una popolazione molto ampia di lavoratori in tutta Italia, 500 all'incirca in Abruzzo, che sono impiegati nei servizi di pulizia delle scuole ma vivono una situazione di precarietà oramai ventennale. Finalmente dopo innumerevoli battaglie e dopo che purtroppo iniziano ad uscire i capelli bianchi a questi lavoratori, e a queste lavoratrici, sia arrivati molto probabilmente alla parola fine di questa vicenda. Ora sta alla nostra organizzazione monitorare che tutti gli ultimi passaggi avvengano permettendo a tutti i lavoratori di essere internalizzati e di far parte finalmente del personale ATA, per cui abbiamo chiesto al Ministero un incontro, abbiamo elaborato 12 proposte per permettere a tutti quei lavoratori che da vent'anni sono in una situazione di precarietà di finalmente vedersi riconosciuto il loro diritto a lavorare in modo dignitoso e con un contatto pubblico. Vent'anni di lotta, ma vent'anni anche di sofferenza, di sfruttamento. Dobbiamo dire grazie all'Unione Sedacale di Base che da sempre si è battuta e nonostante molti colleghi abbiano sempre dichiarato che l'USB sognava, ma invece poi finalmente siamo arrivati quasi al traguardo e i nostri diritti in poche parole.